Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso nord tra Viglio Complanarale Firenze Nord e Barberino del Mugello. In Fipili per Veicolo in Fiamme restano due chilometri di coda verso Firenze tra Empoli ed Empoli Est per lavori possibili disagi tra Ginestra ed Empoli Est nelle due direzioni. Prudenza inoltre per pioggia su gran parte della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Siamo al traffico ferroviario, sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione sulla linea senese a seguito del danneggiamento di un passaggio a livello da parte di un veicolo a Buon Convento, oltre loro i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente segnalato su Viale Redi. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.